ok cioè ragazzi chi è che mi sta sparando e continua a sbagliare in mira come uno stormtrooper che numero non c'è un altro ragazzi oh che numero il mio passatempo preferito a sportare rotule agli astanti ciao ragazzuoli bentornati benvenuti a hard bullet quindi un altro gioco che esce dal sandbox state dal sandbox zone ed esplode con una far falda nella sua crisalide anche meno e quindi non è più soltanto un parco dei divertimenti in cui provare mille cose saldare armi cambiare i proiettili e così via non è più soltanto un'arena con i classici nemici che ti vengono contro ma hanno aggiunto la modalità ride quindi una chiamiamola pattuglia che ripulisce le zone le varie location ma soprattutto che ha una progressione di xp di livelli per ogni si sbloccano le varie armi usando le varie armi si sbloccano le skin a proposito di armi hanno anche rivisitato tutto l'arsenale a tutt'oggi siamo quasi a 100 armi ogni arma da fuoco ha la sua caratteristica unica quindi il suo suono e la sua diffusione delle pallottole e il suo rinculo per ognuna delle armi da fuoco grandi in più come avete visto hanno migliorato hanno aggiunto hanno fixato un sacco di cose hanno aggiunto altre tipo le luci visto gli effetti di luce sulle superfici metalliche va che roba mettiamola nessun futuro nessun futuro nessun futuro nessun nessun futuro va che roba bla 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 speriamo che queste si sblocchi in case non so se si sbloccano con i livelli speriamolo non so sono a livello 27 non so ragazzi quando ce le volete far vedere non so io non so e probabilmente alla fine dell'estate perché infatti la gexagon sta lavorando alle luci ambientali hanno detto che aggiungeranno altre robe hanno dato un piccolo sneak peek sulla loro pagina di steam di queste nuove luci che stanno provando e bene vi lascio alle veramente alle pagliacciate vi farò vedere un po di ride un po di sandbox delirio totale col fatto che si possono saldare le armi cambiare le munizioni le pallottole metterci dei giavellotti ad esempio il delirio totale lo vedrete poi alla fine potete schippare ovviamente ci sono i time stamps sotto ah già vedrete ogni tanto un riquadro in basso a sinistra quello è la streamer cam cioè nel gioco c'è anche una telecamera aggiuntiva completamente configurabile e posizionabile dove volete quindi vi ho mixato nel video un po di ho fatto un po di prove con un po di inquadrature e le vedrete lì chiaramente tutto questo a scapito degli fps è proprio totalmente direi che gli fps hanno detto ti sei dimenticato di ricaricare amico è un gran peccato c'è qualcun altro qui è un po di non ti è un po di ricaricare amico è un po di Hopefully Sei qui dietro? E allora ragazzi Abbiamo 3 di 10 Eeeeeeeh Eeeeeeeh Freemantyne Puuu Sooo Freemantyne Puuu Fuuu Sooo Eeeeeeeh Eeeh 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 Ah già, è vero, uno scario Una cosa Vabbè, e allora tu ti meriti, una Claymore E' tanto difficile, uomo amico Oh 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 Grazie a tutti Interessante Secondo voi a questo a cosa serve ragazzi? Ehi, tu intanto stai buono lì 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 Il rallenti è la roba più figa dell'universo Fremontime Fremontime Ehi, tu intanto stai buono lì Ehi, tu intanto stai buono lì Oh Bene Grazie a tutti Ehi, cosa funziona? Oh Ehi, mi appena esparata Ah, ah, sei qui Non è che è meno spettacolare Perché c'ha il suo bel Ehi, bastardo Ehi, eh, eh, eh Su, però ha un bel raggio Ehi, ah Come on, baby Ehi! 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 Fa sembra la sua porca figura, la claymore. Oh, d'armacellaro, molto bene, molto bene, ragazzo! Oh, d'armacellaro, 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 molto bene, ragazzo! Cioè, hanno fatto una roba enorme per la saldatura! No, ma che figata! Oh, d'armacellaro, molto bene, ragazzo! No, giù! Bene! Bene! Ok! Ma la cosa più sensazionale dell'universo è, attenzione, 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 adesso vi faccio vedere che cos'è... Mmm, facciamo... Cominciamo piano... Facciamo lui! Una delle cose più fighe è il magazine generator! E cioè, qui mettiamo questo... Qui mettiamo questo... Dimensioni... Lo potremmo fare anche più piccolino... 50 per coltellino... Velocità però altissima... Rotazione zero... Dammi pure, amico... La roba figa è che... Non è una pallottola, ma per ogni singolo pellet... Ecco, chiaramente... E' ancora più figo... Esagerare... E' fantastico! Però... Bisogna fare in modo... Oh, scusa, amico... Fare in modo che giri nella velocità di rotazione... 100% per la città... 200... Dimensioni... 250... Dammi qua... Porca puttana... Dammi qua... E allora ragazzi... Non è giusto! Vedi... Perché queste bidonate? E brushed... E Fahrenheit... E... 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 Porca puttana! Ok, ehi là! Scatta tutto! Calma, calma! Un FPS! Vai, insistiamo! Attenti, ragazzi! Che puttanata! E poi qualcosa che lanciavo! I giavellotti! Ehi, ragazzi! Zin 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 zin! Siete ancora vivi? E qui cosa abbiamo? Questo è... con... un lancia spadine! E questo... questo non lancia giavellottini! Che puttana! Questo cosa lanciava? Ehi, l'amica! Oh, giavellottoni! E allora, Tom! Anche tu? Pericolosissima sta roba! Anche qua! Anche qua! Che cosa è stato! O, ho, ho! O, ho, ho, ho! O, ho, ho! Que bilanze Whatases stản le no pucca pucca heee Oh Ehi, ma non come fai a stare qua dietro, o non c'è neanche più l'audio ok non mi ricordo più cosa aveva questo ma potremmo anche finirla così giusto Bene ragazzuoli, aspetta che mi metto un attimo là Nessun futuro Nessun futuro Nessun futuro Nessun, nessun futuro Scusate Ciao ragazzuoli Spero vi siete divertiti Drop a like, subscribe, fate brave Alla prossima Anzi aspetta che così sono molto più credibile Alla prossima Grazie